Buongiorno e benvenuti alla stampa estera, benvenuti anche all'International Journalism Festival per dire in modo inglese. Io sono Dennis Redmond, sono stato durante molti anni presidente della stampa estera, sono legato a Perugia per vari lacci, insegno la scuola della RAI di Perugia, ho casa in Umbria e conosco la coppia dinamica di Arianna e Chris da tanti anni, infatti conoscevo il festival anche prima di essere nato, poi l'ho conosciuto Embrione, poi l'ho conosciuto Bambino e poi oramai cammina da solo ed è diventato un must nel circuito giornalistico. Sono un po' Denisaurus perché sono un po' old media, però essendo stato alunno della scuola dei Columbia Journalism a New York, sono stato un po' l'artefice di averli portati anche a Perugia e anche di aver mandati alcuni dei colleghi che adesso magari sono pentiti alla scuola di Columbia e che sono tornati qua a fare i direttori o gli inviati o i giornalisti. Perciò sono qua soltanto come introducer, ho già dato un'occhiata al programma, lascerò i nostri amici spiegarvelo, ma vi posso dire che è un programma veramente di rilievo, c'è dall'amico Moyeldin di Al Jazeera, a quel giornalista che è stato detenuto in Egitto, a Oleg Gashin che è il giornalista russo di inchiesta che è stato come sapete picchiato ed è quasi deceduto per i suoi reportage investigativi. C'è anche una persona che conoscerete che si chiama Mark Fiore che è il vincitore del Pulitzer per i cartoons, ma cartoons per la prima volta animati online, c'è Evgeni Morozov, un esperto di cyber security, c'è l'avvocato di Julian Assange di Wikileaks, perciò vi ho dato così una carellata di quelli che ci sono, ci saranno anche dei premi che vedete nella vostra cartella stampa, tra di voi so che qua alla stampa estera sono stati qualche concorrenti a come raccontare l'Umbria, è un premio che poi sarà annunciato in questa settimana e sarà dato in Umbria. Adesso dovrei dare in teoria la parola a un ex giornalista che si chiama Beretta, che è il incaricato di Unicredit, che è uno dei sponsors, ma lui oggi non è potuto venire, perciò do immediatamente la parola ad Ariana, perché chi tira le fili è il filo di Ariana e Ariana adesso conducerà le danze implicandomi quando necessario. Allora intanto faccio la parte di Beretta, che non è potuto venire perché è a Londra, per Unicredit ci vuole una ola, perché in tempi d'Italia hanno raddoppiato addirittura la loro sponsorizzazione. Beretta ci teneva a dire due parole qui alla conferenza, quindi mi ha chiesto di dirle io. Unicredit accompagna questa manifestazione come main partner dal 2008 fin dalla sua nascita ed è con piacere e soddisfazione l'abbiamo vista crescere ed acquistare prestigio nel panorama nazionale ed internazionale. Ci auguriamo anche per quest'anno il successo delle precedenti edizioni affinché da Perugia arrivino nuovi stimoli di dibattito su una professione che oggi è sempre più importante per affrontare una visione globale con serietà e soprattutto con passione. Oltre ad Unicredit che noi ringraziamo, dobbiamo ringraziare tantissimi soggetti che sostengono il festival, prima di tutto la regione Umbria che ci ha sostenuto sin dal primo anno, anche qui ola perché in tempi d'Italia in realtà ha confermato il budget insieme ad altri sponsor come Enel, come Enel anche ci ha seguito dal secondo anno, Vodafone, Sky e quest'anno è l'anno di Nestlé anche entrato per la prima volta. La novità poi tra l'altro è parlando proprio di credibilità che abbiamo acquisito sul piano internazionale e che per la prima volta abbiamo come media partner anche Al Jazeera e questa cosa ovviamente ci ha commosso. E questo è per il nostro voto? Certo, no, anche per la prima volta abbiamo con la Commissione Europea ma tanto dopo li faremo parlare quindi potranno avere tutto lo spazio che meritano. Perché oltre ad essere una presenza che sostiene il festival ha anche contribuito a livello di contenuti quindi questo poi lo illustrerà il dottor Battistotti. Quindi parlavamo di Al Jazeera che è media partner e con loro poi abbiamo costruito anche sia dei workshop che dei panel che vedrete poi nel programma del festival. Io vi parlo subito dei keynote speech dell'Electio Magistralis che sono state affidate a direttore della BBC World All Rocks e Carlo De Benedetti, il presidente del gruppo L'Espresso che tra l'altro terrà un Alexio sul giornalismo nell'era del web intesa come un'infrastruttura della democrazia. Quindi credo mai cosa fu più attuale visto quello che sta succedendo anche nel Mediterraneo. L'altra Alexio è di Giulio Anselmi, il presidente dell'ANSA. Dopo poi Christopher vi illustrerà tutti i partner che hanno con noi realizzato e contribuito all'organizzazione del festival. È confermata, come vi dicevo, anche la presenza di Sky che oltre a essere uno sponsor è anche qui una presenza che contribuisce al contenuto. Loro si occuperanno poi tra l'altro di una diretta sulle energie rinnovabili che è curata da Enel e Sky tra l'altro realizzerà al festival una giornata, un appuntamento al Teatro Morlacchi sui faccia a faccia perché come sapete Sky TG24 con Emilio Carelli ha lanciato questa campagna, questa iniziativa per convincere i nostri politici ai faccia a faccia televisivi e permettere poi ai cittadini di farsi un'opinione sulle loro posizioni. Le dirette radiofoniche sono tutte confermate da Radio Capital a Radio Rai 1. Quest'anno abbiamo la novità delle dirette di GR Parlamento e di Radio 24 con la zanzara di Giuseppe Crociani insieme a David Parenzo. Per quanto riguarda invece i concorsi ci prima di sottolineare Eretici Digitali che è un concorso nato lo scorso anno per volontà degli autori del libro Eretici Digitali Massimo Russo e Vittorio Zambardino che hanno messo poi a disposizione gli introiti della vendita del libro per il premio ma da quest'anno Google ha deciso di sostenere il premio che è per chi fa giornalismo d'inchiesta utilizzando in modo innovativo la rete con una dotazione di 10.000 euro e credo che sia forse l'unico, forse uno dei pochissimi premi sostenuti da Google in Italia. L'altro premio a cui noi teniamo moltissimo perché è nato con noi, con la prima edizione che è stato organizzato in collaborazione come sempre con l'associazione L'Aria Alpi è una storia ancora da raccontare ed è dedicato ogni anno a un giornalista che ha perso la vita per fare il proprio lavoro e quest'anno è dedicato a Peppino Impastato e questo premio è sostenuto da Unicredit. Torna la rassegna stampa che poi è un modo anche divertente e dissagrante di leggere i giornali quest'anno credo addirittura ci sarà un'analisi dei Tg, l'anno scorso e sono confermati quest'anno c'erano Antonio Sofi e Diego Bianchi, si affiancheranno a loro Francesca Fornario e Alessandro Capriccioli. Per quanto riguarda le interviste diciamo che sono soprattutto, anzi sono esclusivamente italiane credo, vero? Sì, perché sulle presentazioni dei libri invece ci sono gli stranieri. Abbiamo un'intervista a Milena Gabanelli, ad Ezio Mauro, a Nichi Vendola, fatta da Vittorio Zincone del Corriere della Sera e l'altra intervista qual è? Non me la ricordo, datemi due secondi. Ah sì, il giornalismo musicale, questa è organizzata con il direttore, con XL, con l'inserto musicale di Repubblica, Luca Valtorta, intervista di Gabue. Tra i panel discussion, io sono tantissimi, quindi magari ve ne segnalo alcuni, i 150 anni dell'Unità d'Italia saranno trattati grazie a una serata teatrale con Aldo Cazzullo, Viva l'Italia e l'inchiusura del festival con Eugenio Scalfari che farà un racconto dei 150 anni dell'Unità d'Italia dall'Unità d'Italia all'era berlusconiana. Tra i panel discussion vi sottolineo l'informazione politica nell'era di Emilia Sociali, tra l'altro c'è Alessio Iacona qui con noi, è stato lui ad organizzarlo e grazie a lui avremo il blogger che ha diretto la campagna di Barack Obama nel 2008, che è Sam Graham Felsen. Come è cambiato il giornalismo italiano nell'era berlusconiana? Questo lo segnalo perché c'è la presenza di John Lloyd, che è il direttore della Reuters Institute for the Study of Journalism, ma è particolare questo panel perché è stato voluto da John Lloyd, che ci ha contattato e ci ha chiesto di poter portare questo argomento al festival perché lui si sta occupando proprio di questa tematica con un libro che molto probabilmente uscirà a settembre. Di No Profit per salvare il giornalismo parliamo con De Biase, che è il direttore di Nova del Sole 24 Ore, qui ci tenevamo a sottolineare la presenza di Chuck Lewis e McFaidan, che in questo settore sono due punte di diamante. L'altra iniziativa vede la presenza di uno dei massimi filosofi del web, che è Peter Ludlo, e qui parleremo dei diritti dei cittadini e ci interessava soprattutto toccare questa tematica, visto anche quello che è successo, parliamo della Tunisia, quando è stata tolta la possibilità ai cittadini online di esprimersi, di parlare. E quindi ci sembrava una delle tematiche assolutamente da affrontare. Poi ne vedete, ce ne sono tanti altri, diciamo che italiani e stranieri, tra gli italiani ci sono quasi tutti i giornalisti italiani che noi conosciamo benissimo. Parleremo di Citizen e Graphic Journalism, anche qui vi segnalo la presenza di due fumettisti molto famosi, stranieri, James Burns e Dan Perkins. Questo è stato realizzato in collaborazione con la rivista Mamma. Parleremo dei giovani, in Italia è un problema gravissimo, lo sappiamo tutti, è un paese nostro poco meritocratico, poco attento alle nuove generazioni, e per questo abbiamo realizzato insieme a Italia Futura e al Forum Nazionale Giovani degli appuntamenti per parlare proprio di questo aspetto, anche confrontandoci con altri paesi. In questo caso abbiamo invitato Stefan Faris del Time Magazine perché è stato l'autore di una importante inchiesta fatta proprio sulla questione dei giovani e dei giovani talenti che fuggono dall'Italia. E per l'occasione sarà presentata l'associazione Italens che appunto cercherà di occuparsi anche a livello politico di questo problema e di spingere, se possibile, a un cambiamento la nostra classe dirigente. Quello che sta succedendo nel Mediterraneo lo sappiamo tutti, come ha già accennato Dennis ci sarà Ayman Moyeldin di Al Jazeera, ma non solo, anche il direttore di Al Jazeera Talk, con loro parleremo del ruolo di Al Jazeera, non solo dei social network, ma del ruolo di Al Jazeera in queste rivoluzioni, perché ha avuto un ruolo fondamentale, senza quel tipo di informazione, di visibilità, anche della spinta delle popolazioni che scendevano in piazza, forse tutto quello che sta succedendo non sarebbe successo, almeno non con questa portata. Vi segnalo anche Donne Media Potere perché è un format che è nato l'anno scorso e abbiamo deciso ogni anno di ripeterlo, perché secondo noi come per i giovani anche sulla questione Donne, poi la manifestazione del 13 febbraio scorso l'ha dimostrato, in Italia abbiamo qualche problemino. Per l'occasione parleremo tra gli appuntamenti che avremo di lavoro, della questione lavoro per quanto riguarda le donne e avremo il segretario generale della CGL tra gli ospiti del festival, Susanna Camusso. Un'altra cosa molto interessante, perché all'estero se ne parla tantissimo e forse in Italia meno, è il controllo dei dati, il controllo dei fatti, il famoso fact checking che forse in Italia non si fa proprio tantissimo e qui avremo uno dei guru di questo settore che tra l'altro è il premio Pulitzer del 2009, giusto? Billader. E poi parleremo anche, visto che poi hai accennato anche alla questione Russia e della questione di fare il giornalismo in paesi dove poi alla fine rischi quello che è successo ad Oleg, parleremo anche del Messico, perché anche lì la questione del giornalismo che denuncia il narcotraffico è un po' come in Italia chi denuncia la mafia. e il Messico è il terzo paese più pericoloso al mondo per i giornalisti e ci sarà Malcolm Bates che è autore dell'Ultimo Narco, ma anche Annabelle Hernandez che è una giornalista adesso sotto scorta, è la figura di Roberto Saviano in Messico e lei, dopo aver scritto il libro I Signori del Narco.